buonasera a tutti sono solo qui in officina e per il tips di oggi vi voglio far vedere una cosa in realtà voglio fare una specie di diciamo video molto conviviale nel senso ne chiacchieriamo sto parlando di questo oggetto che vedete sul tavolo in realtà ho due oggetti una è questa che è la sonda sonda delle acque chiare e poi è il tester vi racconto questa cosa mi è capitato in un giorno di avere lo stesso problema due volte cosa veramente piuttosto rara però guarda caso sembra che veramente a volte i problemi si accavallano tutti quanti insieme quindi a questo punto ho detto perché non farci un video e spiegare di che cosa si tratta fondamentalmente si trattava della mancanza di visualizzazione o di della non corretta visualizzazione del livello delle acque chiare in centralina per risolvere il problema è veramente molto semplice però bisogna sapere ovviamente il funzionamento della sonda cioè come vengono forniti gli impulsi alla centralina per far accendere i cosiddetti led di la scala che dal rosso arriva fino al verde dipende insomma in base alla centralina poi abbiamo delle indicazioni che possono essere più o meno comprensibili ma tendenzialmente si tratta sempre diciamo scusate di led che si accendono e danno chiaramente proporzionalmente il livello come funzionano le sonde le sonde adesso prendo una sonda più semplice ci sono sostanzialmente due tipi di sonde o una sonda a step e quindi questa di questo tipo qui oppure una sonda capacitiva nel caso nostro chiaramente la sonda capacitiva è molto più precise quindi ci permette di in base alla tipologia di centralina e la programmazione che viene data alla centralina di avere un livello molto più preciso cosa che sinceramente poi è utile fino a un certo punto perché in base alla tipologia di serbatoidi dove viene messa la sonda di come il serbatoio è sagomato soprattutto il livello conta relativamente cioè la precisione del livello conta relativamente la cosa è particolarmente evidente nei serbatoi particolarmente sagomati per cui il livello non è tendenzialmente proporzionale al riempimento comunque lasciamo stare stesso discorso vale ancor di più per la sonda a step che è quella proprio con i led che si accendono e vediamo un attimo come funziona quello che ho qui è un tester che quello che ci servirà per farvi capire un attimo il funzionamento alla sonda ha presenta in questo caso sono cinque cinque aste eccole qua cinque aste di acciaio inox con una che sono inserita all'interno di una base e questo è un particolare tipo di sonda della shout però insomma le sonde sono sostanzialmente le stesse anche la cbia ha delle sonde che sfruttano lo stesso concetto chiaramente abbiamo due sonde diciamo sono due aste di metallo di acciaio inox che sono lunghe una certa dimensione una che è lunga leggermente di meno un'altra ancor di meno è un'altra che l'ultima ognuna di queste aste di metallo di acciaio inox va a corrispondere qui dentro ad un filo e adesso ve lo dimostro allora io le ho divise ho i due fili bianco e marrone che corrispondono alle due aste lunghe quello giallo che corrisponde a quella media quello viola che corrisponde a quella leggermente più corta e il verde corrisponde a quella più corta ancora allora prendiamo il test per dimostrarlo prendo il test e lo mettiamo a continuità come vedete quando noi abbiamo continuità abbiamo il collegamento tra i due cavi allora partiamo dal dalla prima sonda eccola qua e quella va a corrispondere al cavo quello marrone sentite poi sopra abbiamo la bianca eccolo poi qui abbiamo la gialla poi passiamo alla viola eccola e poi alla verde ok perfetto allora quindi come avete visto ogni asta corrisponde a un cavo e per quale motivo vanno a corrispondere perché in realtà lo scopo di questo collegamento è quello di fare massa di utilizzare l'acqua come conduttore quindi quando la sonda viene inserita all'interno del serbatoio e non c'è acqua noi abbiamo che queste due sonde non sono a contatto e quindi il serbatoio è vuoto quando si inizia a riempire man mano che l'acqua sale la massa va a corrispondere a un diciamo a un colore diverso quindi l'acqua riesce a mettere a massa due fili diversi e questo fa accendere prima il primo led quello della riserva poi il secondo led poi il terzo led poi il quarto led in questa maniera praticamente mettendo a contatto man mano che sale il livello fino all'ultimo come vedete qui sopra noi andiamo a prendere la massa dall'ultimo e la portiamo sul primo e quindi questo ci consente di chiudere il circuito dell'ultimo led e quindi in questo caso noi abbiamo il livello complessivo e quindi il serbatoio completamente ripieno questo è il principio di funzionamento adesso qual è il problema questa è una cosa sicuramente utile da sapere altrimenti non riusciamo a capire come fare a risolvere il problema che cosa succede che l'acqua all'interno in casi particolari in cui è particolarmente dura oppure diciamo rimanga nel serbatoio per tanto tempo ma comunque in generale in particolare con un particolare tipo di acqua particolarmente dure quindi pieni di calcare il calcare tende a depositarsi sul sulla superficie dello stelo soprattutto quando viene lasciato il la sonda all'interno è lasciata a bagno quindi non viene scaricato il serbatoio cosa che dovremmo fare come avete visto nel video vi lascio qui il video che abbiamo fatto con acqua travel di fabio in modo che potete capire come trattare le acque quindi come scaricare scaricare che prodotti usare eccetera quindi succede che uno strato di calcare sempre ma di dimensione sempre maggiore tende a circondarsi precipita e quindi tende a ricoprire la superficie delle aste questo comporta isolamento sostanzialmente della superficie e quindi nonostante l'acqua sia superiore al livello che noi abbiamo immaginato chiaramente l'indicazione in centralina non viene data cioè noi riempiamo il serbatoio e alla fine la sonda sembra che non funzioni in realtà non funziona perché praticamente questo passaggio di questo contatto tramite l'acqua non c'è ecco la cosa semplicissima è quella a volte non è necessario neanche smontare la sonda che in genere questo caso è avvitata vedete è avvitata dal da sotto c'è una contro una controchiera però molto spesso è proprio si è avvitata con dei fori con delle viti inox e all'interno del del sigillante quindi a volte non è neanche necessario si mette la mano dentro e si inizia a trattare la superficie con per esempio dell'aceto con un alticalcare quindi una sostanza che consenta di pulire la superficie dell'astina quindi basta semplicemente pulire la superficie del di tutte le astine ovviamente e vedrete che se chiaramente il difetto non dipende dai led bruciati ma cosa molto molto difficile vedrete che risolverete il problema ok quindi molto molto semplice spero che questo tips vi sia stato utile perché secondo me capita abbastanza frequentemente a volte in alcune circostanze se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale condividetelo con i vostri amici se ritenete che sia stato utile a voi e anche chiaramente ai vostri amici attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo sul canale e come al solito ci vediamo alla prossima